Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata localizzata dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ieri 20 maggio alle 15.07 a 5 km a sud ovest di Vicco del Gargano, con coordinate geografiche latitudine 41.8550, longitudine 15.9300, ad una profondità di 29 km. Al momento non si registrano danni.